...che comincia a fare il video delle cantine... ...sì, si... ...un uomo... 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 ...se volete andare... ...n'ecorginio dove ci sono le sedi ci dovrebbero essere altre persone che poi... ...col bicchiere che devono ancora fare la degustazione... ...quando loro partono per fare il giro delle cantine... ...be, il bicchiere è per fare la degustazione... ...voi vi aggregate per fare quello giro, non c'è problema... ...grazie a voi... ...cao... ...un uomo... ...un uomo... ...ok...